Non esistono meccanismi nel Trattato di Lisbona per ridistribuire la ricchezza. Sarebbe logico, negli Stati Uniti d'Europa, se veramente fosse un unico Stato, essere in grado di fare una cosa di questo tipo. Allora, abbiamo una sacca nel nord-ovest che è ricchissima, bene, trasferiamo un po' di capitale nel sud-est, che magari è un pochino meno, in modo da riequilibrare lo Stato, in modo da funzionare un po' meglio, non avere sempre queste maledette economie a due strati, come Stati Uniti del nord, Stati Uniti del sud, Inghilterra del sud, Inghilterra del nord, Italia del nord, Italia del sud. Ecco, questo non è previsto nel Trattato di Lisbona. Sarebbe stato un grande passo avanti.